Il testo di Antonio Rainone con la prefazione di Paolo Crepe che ci insegna come gestire situazioni difficili puntando su parole chiave come la passione, la conoscenza di se stessi e dei propri limiti e il lavoro di squadra. Lo scopo del mio libro è che in un momento in cui il lavoro cambia e diventa purtroppo un lavoro che cambia spesso c'è bisogno di avere delle strategie per affrontare un nuovo lavoro, un nuovo mondo, c'è bisogno di capire mille cose e non c'è più la possibilità di andare all'università. Quindi a livello imprenditoriale ho cercato di mettere quali sono state le mie strategie di un uomo che si è costruito dal nulla e che ha imparato tanto, ha avuto tanti risultati in campi diversi e che vuole essere anche un libro per i giovani e non giovani come strategia per migliorare le proprie performance e raggiungere i propri sogni e risultati. Da Pratese possiamo dire chiudendo possiamo ancora tessere i nostri sogni? Certo possiamo anche tessere i nostri sogni a patto che non tessiamo sempre i soliti sogni, riusciamo a riconoscere i sogni buoni, i sogni antichi e i sogni invece che ci fanno vedere nel futuro. Il segreto del successo personale è svelato nel primo libro di Antonio Rainone che è il fondatore della NVG, azienda pratese leader nella Green Economy. Vediamo. Il 10 ottobre esce in tutte le librerie, scommetto su di te il primo libro di Antonio Rainone, fondatore della NVG Academy, scuola di formazione della NVG, azienda pratese leader nel mercato della Green Economy di cui è socio. Stamani la presentazione alla libreria Giunti di Corso Mazzoni a Prato. Incalzato dalle domande del giornalista Umberto Cecchi, Rainone ha raccontato la sua storia di imprenditore di successo partito dal nulla. Un'ascesa tutt'altro che facile, conquistata tappa dopo tappa. Nato 47 anni fa a Prato, Rainone ha rifiutato di seguire la carriera del musicista che il padre voleva per lui. E per mantenersi ha lavorato come operaio tessile e venditore porta a porta. Un toto ha fondato l'agenzia di eventi Premier a cui è seguita nel 97 l'attività di coach per reti commerciali. Nel 2003 inizia la fortunata avventura in NVG che in pochissimi anni diventa un marchio leader della Green Economy. Da qui il desiderio di scrivere un libro per insegnare il ruolo determinante della passione e della volontà per raggiungere i propri obiettivi. Senza ombra di dubbio, senza la volontà non si può raggiungere alcunché, però la volontà ha un motore che è sempre il sogno e la passione. Quindi ritorniamo al principio di passione, volontà, azione, ma è la passione, l'amore per quello che tu fai che ti fa poi avere la volontà di metterti in gioco. Specialmente nei momenti più duri, che è lì che occorre tanta volontà rigenerata da tanta passione.